Ciao a tutti e bentornati nel canale di Shariman, oggi con questo nuovo episodio del Parate Bay Bundle, però stavolta invece di tirare casualmente ho pensato, visto che siamo nel periodo di natalizio, perché non fare un gioco a tema natalizio? Siccome si chiamava Secret Santa, posso supporre che lo sia. E dunque, caro Babbo Natale, voglio una principessa, love, ti voglio bene, il re del ghiaccio. Caro re del ghiaccio, d'accordo, ti voglio bene, Babbo Natale segreto. E quindi devo cliccare per congelare cose. Non Babbo Natale, nemmeno la principessa. Oh, posso, ok. Ah, ok, si congelano gli oggetti dello scenario e faccio incontrare queste cose. Ok, quindi sono in pratica dei livelli in cui devo far arrivare Babbo Natale dalla principessa. Eh, facile, dai. Qua congeliamo la cassa. Ah, ok. Qua andiamo pian piano. Oh, ok. Dobbiamo andare pian piano perché non vogliamo farli cadere. Ora dobbiamo fargli fare una bella accelerazione. Così quando lo fermo, lo catapulto di là. Ok, ora comincia a essere più complessa questa cosa. Ah, ok, lo faccio semplicemente sparire, va bene. Vabbè. Va bene. Oh, shish. Ok, allora. Penso prima di dover fare scivolare la cassa. Poi Babbo Natale, no. Babbo Natale ci cade sopra. Faccio sparire questo. E la cassa, no. Vabbè, non so come è andata, va bene così. Piuttosto chissà quanti sono i livelli. Allora, qua suppongo debba fare una sorta di catapulta, no. Ok, allora, forse ho capito. Devo fare scivolare un po' più in qua la sbarretta. Non però così. Allora, faccio scivolare la sbarra pian piano. E poi catapulta. Ti prego, arrivaci. Ah, ok. Qua comincia a farsi più compl... Ah, vabbè, basta che faccio scivolare tutto. In teoria, ora... Sì! Yes! Pa 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 pa. E va bene, ora... Ok, ora c'è il rischio di far cadere anche la principessa. Nooo! Ah! Thump! Ehm, bussano alla porta. Fermati! Re del ghia... Ehm... Ok, la principessa è imbavagliata. Ehi, ragazzi, vi ho portato un regalo! Siamo amici? Fine. Oh, lo è! Ci sono 15 livelli in più. Livelli fatti dai giocatori. Ah, ok, quindi questo era il gioco. Eh, però ci sono altri livelli. Io direi... Facciamoli, vediamo un po' com'è, visto che non stia durando un gran che. Allora, qua c'è un'enorme rampa, suppongo debba fare questa roba qua. Woo! Ahaha! Ok, i livelli di giocatori sono un po' più... Particolari, per così dire. Eh, questo sembra molto difficile, ok. Ok, no. Ok. Ah! Ma chi l'aveva visto quel coso? Ok, allora, devo fare... Così. E così. No. Allora, devo fare... Così. E lui finisce lì sopra. Questo lo faccio sparire... No! Allora, prima di tutto quello lo catapulto lì. Mentre questo cade... Oh, quasi. Ok, ci sono quasi, ragazzi. Ma non ci credo! Ok, questo facciamolo di ghiaccio fin da subito, per non sbagliare. Questo abbiamo detto che scivola un po' più in giù. Ma dai, non sullo spigolo! Vabbè, possiamo farlo scivolare di qua, però. Forse è meglio. Non ci avevo pensato. Ok, allora. Proviamo a ragionare. Qua già... Le cose si fanno molto più complesse. Qua... Facciamo volare Babbo Natale. Poi lo faccio venire leggermente più in giù. Via! Via! Secondo me il trucco è questo, però devo... ...coordinarmi un po' meglio. Oh! Cosa? No. Prima lo faccio scivolare un po' più in qua. Poi faccio volare Babbo, che è un po' più sul pizzo. E poi... Sì! L'ho capito! A chi serve il ghiaccio? Ok, devo fare una specie di catapulta. Vabbè, era così semplice. Va bene. Oh! Oh! Ah, ok. Facciamolo scendere pian piano, questo. Non so cosa ci possa servire, ma... Ah, dobbiamo spingere Babbo Natale, forse? Sì! Ok. Se lui vola così... Ok, allora, io provo a fare cadere questo qua. Così. Vabbè, è semplice. Curiosità. No. Ok, devo capire solo... Quello da questo lato, in modo che lui si inclina e poi... Papà! Papà, papà, pam. Gravità! Che senso? Ah, vabbè, faccio semplicemente una conca e gli faccio andare l'uno verso l'alto. Yes! Papà, papà, papà. E... Uh! Facciamo un po' più di leva. Yes! Su, su e lontano! Vediamo che succede. Ah, ok. Devo semplicemente capire qual è il peso ideale per lanciarlo... Non troppo, ma facendolo arrivare alla principessa. Se i blocchi sono troppi, proviamo con quattro. Quattro sono troppo pochi, allora facciamo con cinque. Quasi. Proviamo cinque dall'altro lato, magari cambia qualcosa. Cambia qualcosa! Allora, io direi che devo fare scivolare qua un po' più in avanti. Così. Faccio sparire questi. Faccio così. Oddio! Quanto! Quanto forte! Allora, pochissimo. Facciamo poco, poco, poco. È poco, poco, poco. È comunque troppo. Facciamo proprio un pelino. Eh, un pelino è troppo poco ora. Vediamo se così è sufficiente. Sì, ma lo lancia troppo lontano. Ok, c'è qualcosa che devo ancora riuscire a comprendere. Forse... La leva la deve fare. Ah, certo, devo diminuire la leva. Ok, forse, forse ci sono. Non devo equilibrarlo su quel blocco lì, ma quello un po' più indietro. Sì! Ok, era un po' tricky come cosa. Eh, la principessa è intelligente più, di più però. Eh, non so come renderlo in italiano, ma... Basta far così. Facciamo scivolare via tutto. E poi... Pop! Uddio! Ah, ok, devo far arrivare entrambi nel punto centrale. Allora, lei... Non cadere gentilmente. Brava, stai dritta, in piedi. No. Allora, se Babbo... Facciamo questo... Lo spinge di sotto. Ok, per il momento sta lì. Eh, se lo premiamo lui scivola. Io suppongo che debba far arrivare la principessa dall'altro lato. Quindi... Faccio scomparire questi. Questo deve scivolare. Non così però. Ok, Babbo lì c'è. Ora. Piannino. Adagino. Questa deve scivolare di là. Sì! Caccia al pixel. Ah, nel senso che sono molto piccoli sti cosi. Vabbè, allora. Ok, allora. Prima levo sta roba. Poi... Devo fare l'effetto catapulta. No. Ah, ok. Perché anche questo deve scomparire. Poi... Fale la catapulta. Ma non è sufficiente. Per quale motivo? Facciamo un po' di leva in più. Sì! Ok, allora. Ora. Ci sono due principesse false. Ed una, suppongo, vera. Ora. Qual è quella vera? Intanto, Babbo, lo facciamo andare a quella principessa lì, suppongo. Vediamo che succede. Ma potevi? Oh, ma c'è un'altra principessa lì. Ti pare che l'ho vista? Ah, era quella. Beh, facile. Ok, occhiali da sole di Babbo segreti. Uhuhu! E quindi, per questo episodio del Parade Bay Bundle direi che è tutto. Come al solito, date le rette a me ai gemellini, lasciate un mi piace, iscrivetevi, lasciate un commento qui sotto, se desiderate comunicare con me, passate le social create in descrizione, Facebook, Instagram, Discord e ci rivediamo nel prossimo episodio del Parade Bay Bundle. No, no!